All'ospedale Marino di Alghero non si opera più non solo in ortopedia ma anche in oculistica. È tutto fermo. A lanciare il grido d'allarme sono i consiglieri all'opposizione del Consiglio Comunale di Alghero che in una nota riferiscono che le sale operatorie dell'ospedale civile, ristrutturate al terzo piano e dotate delle migliori tecnologie che permetterebbero di operare in sicurezza, inspiegabilmente non vengono aperte. Sono pronte da sei mesi abbondanti. I consiglieri di minoranza ribadiscono che si preferisce fare pochi interventi in urgenza nell'unica sala della ginecologia con immaginabili problemi di promiscuità e di sicurezza. Mentre prosegue la nota della minoranza non si effettuano interventi anche importanti come quelli intravitreali che impediscono la cecità con conseguenze gravi per i pazienti. Alghero viene abbandonata nel silenzio generale. Concludono nella nota i consiglieri della minoranza e chiedono risposte concrete e interventi urgenti al presidente del Consiglio regionale Michele Paes e al sindaco Mario Conoci.